... ...commerciale ma con tante insule. Noi abbiamo saltato la strada più conuta perché è quella dove poi ci sta affollamento, ma dopo nel pomeriggio vedremo alcuni edifici anche molto ben conservati. La mia intenzione è proprio di finire su una terrazza di un'insula così abbiamo anche una visione globale, una bella vista su Ostia. E su quell'architrave c'è un'iscrizione con il cristogramma, lo vedete sopra al capitello, una XC, le parole di Cristo, e quindi si è pensato che fosse questa la basilica. In realtà non ne ha né le dimensioni né la planimetria e quindi gli studiosi, in particolare un archeologo che si chiama Patrizio Pensabene, ha studiato questa casa e ha detto che questa è una tarda abitazione di lusso. ...a scavare che trovo l'acqua che è per nulla inclinata dall'acqua del mare, quindi l'acqua alla falda fritera era molto successiva. ...